Buonasera a tutti ragazzi, questa sera siamo qua a Modena, siamo un numero incredibile, è la notte di Capodanno. Inizieremo adesso a servire gli antipasti perché siamo super super affamati. Siamo centinaia e centinaia ragazzi in questo bellissimo locale Keller di Modena. Guardate che meraviglia ragazzi, eccoci qua, vai e abbiamo anche la fattucchiera e buon appetito, vai. Signori buon anno a tutti, buon appetito. Grazie.